quando nostri particolari atteggiamenti sono rivolti nei confronti di particolari categorie sociali allora in quel caso l'atteggiamento diventa un pregiudizio che vuol dire pensiamo per esempio al nostro modo di vedere alcune particolari categorie della società gli immigrati gli omosessuali i malati di mente le persone che vengono dal nord piuttosto che quelle che vengono dal sud le persone che abitano una certa area del mondo piuttosto che un'altra si tratta di atteggiamenti che noi abbiamo maturato nel corso del tempo nei confronti non di singole persone o di singoli fatti o eventi ma nei confronti di una intera categoria di persone che identifichiamo attraverso un particolare tipo di concetto in questo caso quindi l'atteggiamento corrispondente è stato generalizzato nei confronti di un insieme molto vasto di persone e proprio per questo motivo quindi noi chiamiamo questo particolare tipo di atteggiamento pregiudizio naturalmente anche i pregiudizi così come tutti gli atteggiamenti manifestano una componente cognitiva una componente affettiva ed emotiva ed una componente comportamentale i pregiudizi possono essere positivi ma naturalmente possono essere anche negativi sono pregiudizi positivi quando ci portano ad avere un favore nei confronti di quella particolare categoria sociale di persone sono però molto più spesso dei pregiudizi negativi quando ci portano invece ad avere un atteggiamento di sfavore nei confronti di quelle appunto categorie sociali di persone visto che i pregiudizi così come gli atteggiamenti hanno una componente comportamentale molto spesso tali pregiudizi non rimangono soltanto nella nostra mente come appunto atteggiamenti neutrali ma si manifestano poi nel tipo di comportamenti che assumiamo nel momento in cui ci troviamo ad avere a che fare direttamente o indirettamente proprio con una persona che identifichiamo come parte di quella specifica categoria sociale per esempio io ho un pregiudizio positivo nei confronti delle persone che vengono dalla sicilia guarda caso quindi nel momento in cui sono a scuola e ho un alunno che viene alla sicilia allora automaticamente avrò un comportamento di favore nei confronti di quella persona magari che si esprime con il mettere dei voti positivi anche se le sue performance anche se le sue verifiche non lo sono proprio ma nella maggior parte dei casi vi dicevo i pregiudizi sono negativi quindi questo vuol dire che noi tendiamo ad assumere dei punti di vista e di conseguenza ad adottare dei comportamenti di discriminazione di 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 esclusione proprio nei confronti di determinate persone soltanto per il fatto che le identifichiamo come facenti parte proprio di quella categoria sociale nei confronti della quale abbiamo maturato quel tipo di pregiudizio a Grazie.